Amici 22. Verità clamorosa dietro il litigio tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi. Tra Raimondo Todaro, insegnante di ballo di Amici 22, e Maria De Filippi, è emerso un litigio con una verità clamorosa dietro. Non sono stati forniti molti dettagli riguardo alla specifica verità dietro al litigio tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi, ma ciò ha suscitato grande curiosità e speculazione tra il pubblico. La notizia ha generato scalpore e interesse sia tra i fan dello show che tra il pubblico televisivo in generale. Si attendono ulteriori informazioni riguardo alle cause e alle conseguenze di questo litigio e alla verità che lo circonda. L'evento mette in luce come le dinamiche dietro le quinte di un programma televisivo come Amici possano portare attenzioni e contrasti anche tra figure chiave come l'insegnante di ballo e la conduttrice. Si rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti riguardo al litigio tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi e alla verità dietro a questa situazione.